Siamo alla cronaca, il colpo ricevuto alla testa determinato oltre alla frattura del cranio, l'emorragia cerebrale, la morte e conseguenza dell'emorragia cerebrale stessa. E' quanto si apprende dall'esito dell'autopsia su Matteo Giansalvi, il 18enne di Miglianico morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pescara, dove era stato ricoverato in condizioni disperate domenica nel primo pomeriggio. Il ragazzo era stato colpito alla testa con un rullo per dipingere dal fratello Giuseppe di 21 anni durante una lite. L'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, è durato oltre 5 ore ed è stato eseguito dal medico legale professor Cristian Dovidio, che si è riservato 60 giorni di tempo. Quanto al mezzo lesivo, alle misurazioni che vengono effettuate in casi del genere durante l'autopsia, si aggiungeranno ulteriori valutazioni multimediali conseguenti all'attacca. Per la morte di Matteo si trova agli arresti domiciliari, lo ricordiamo, il fratello accusato di omicidio volontario aggravato. I funerali di Matteo Giansalvo si terranno domani sabato 23 gennaio alle ore 10 nella chiesa di San Rocco a Miglianico.